Allora, Ale, cosa ne pensi di essere intrappolato sotto la sabbia? Ale, mettiti in piedi, per favore. Io sono più aperto. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ciao. Ma quanto sei alto? Tassati in piedi, vuoi vedere? Cioè, ma arriva il cazzo? No, ho visto un video iniziale così. Ci metto una bambina. Ale, ti puoi mettere in piedi? Devi stare in piedi. E Ryan sta là? No, non si può fare la copertina giusta. Ma mettiti in piedi, per favore. Allora, Ryan, prego. Ti metti in piedi. Dal ginocchio sei bloccato sotto la sabbia, vero? No, non si fa, non si fa sotto la sabbia. Non si fa. Mi stai mettendo la sabbia nei piedi. No, ti uccido. La sabbia non mi deve toccare. Per un attimo, mi libero. Devo cercare di liberarmi il masetto fantasma. No, tu ti chiudi. Ti chiudi. Non si fa. Io ti butto così. Devo cercare di liberarmi in qualche modo. In che modo? Ando di lato. Io ti chiudo di lato. No, devi fare. Prima o poi finirà la sabbia. No, siamo al mare. Togli il tuo piede, è orribile. Mmm, i piedi. Prima o poi finirà la sabbia. Citazione a un video incredibile e impressionante. Fai vedere qua, lì? No. Lì. Sgabirlo. Dopo censura le gali. Che cazzo? Devo liberarmi. Prima o poi vi farò una cosa che vi pinterete di essere nati. Citazione incredibile e impressionante. La pagherete di essere nati e di farmi i pezzi. Le cose. Sgabir, sgabir. Io non ti dico come mi hanno messo. Dove ti hanno messo? Avete messo la... Qualcuno. Mi avete... Intrappolato. Se ti liberi ti pisci in testa. Nascondi, 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 nascondi. Aiuti pure, ma sei proprio... Raya metti un piede, mi goderò. Raya metti un piede qua. C'è il mio... C'è una g... Raya metti un piede qua. Metti un piede qua. Mettilo. Non devi sbirciare. Mettilo. Non devi sbirciare. C'è la pava. No, non c'è la pava. Ah, fa male? No. Fa tutta. Ah, grazie per avermi la data. Sgabir. 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 Saluta il video. Saluta il video. Ciao. Ma guardali negli occhi e baciali. Baciali. Baciali i tuoi sottoscritti. Sponsorizzati almeno. Con la schiena piena di sabbia. Lui dove apri? Sponsorizzati. Cosa fai? Lo sto rivelando. C'è una minchia di insetto. Madrone giallo. Io poi ho un calabrone della vita ma... Della vita ma tu sì. Penso che se mi becca morirò. Morirai male? Cioè se mi becca e faccio un salto mi... Ryan sponsorizza il tuo server di Minecraft. Tu muovi. Cosa do sponsorizzare? Il tuo server di Minecraft. Tu sporco altamente ora vabbè. Mmm, culetti. No, mi dissocio. Un culer. Che vuoi dire? Sono bloccato per sempre ora. Sponsorizza il server di Minecraft di Ryan. C'è un server bellissimo che c'è. PC Reby. I di capparolli. Eh, PC Reby perché ho del rito perché c'è PC Reby. Mmm, mmm, mmm. Stai. Eh, er Nico quando entri... Er, 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 er... Er, er, er... Er nameless. Er nameless. Ah, io so chi è nameless. È una prost... È un pirla. Io lo conosco. Non lo visto. Non... Non... Dì che è quello del di Ryan. Non quello di Ryan. Nameless è un mio amico. Nameless 015. È un pirla, idiota, pezzo di merda. Non è Stefano. Perché c'è fatto? È blu. Ma non guardi l'edale. No, perché non posso vedere, perché è bloccata. Ha messo delle TNT sopra la casa di tutti. No. Ah, è un'acqua. Ma non ho scritto un'acqua. Però devo... Posso vedere con un altro accanto? C'erroio? Sì. No, tu non ce l'hai l'accanto. Ma non puoi fare. Non puoi fare. Ti metti un altro accanto. Io o no? Eh. Però io posso entrare nel tuo accanto. Ma io so quello di porno. No. Ma non lo sai. Ma non voglio più sabbia. Ma madre, è mica l'accanto. È orribile. No, è vero. Io me ne voglio. Ma non mi vuole. Ma non mi vuole. Ma non mi vuole. Mi fai male. Le costo. Ma se le costo le sono più. Aiutate. Mamma, mi vuoi dire come si fa uscire? Allora, di fare pipì così si smiccia. Così? Così. Così. Sì, balli degli anni tanti. Di qua, di là, avanti. Di qua. Allora, di fare sopra, sopra. Non l'ho preso. Cazzo. Fai, fai, fai sopra, sopra. Fai, su, su. Devi scavare un po'. No, devi fare quello di... Fai, fai su, su. Su, su, fai su, su. Giù, giù. Giù, giù. Destra, sinistra, destra, sinistra, B, A. Prova adesso. E B, A non lo metti? Prova solo a darti da qua. No, non si può fare vedere. Mi so, allora. No, no, no. Non basta. Non ferma, non occuperanno. Hai quattro pance. Piene di sabbia. Sgabir. Quando ti ha creato dovrei morire. Cosa ho detto? Sgabir, sgabir. Ma la tua bua sta facendo male, quella del ginocchio, gamba, piede? No. Quella del taglietto ti fa male sotto la sabbia del sale. Del sale della sabbia del sobbio. Non ti perderemo mai più. Perché? Me lo avete tutte male. Saluta, saluta. Ma fa un gusto. No, non si dice. Brutto troione. Vi faccio vedere io. Non dovete fare. Non lo sai la sabbia, il sole leggi. Lo youtuber. Sei un tiktoker. Un tiktoker più bello. Ah, porco cane. Non toccare. Fai su, su. Su, su. Vogliamo mettere... Ti lancio la sabbia nel santo. No, no. Fai su, su. No, ti lancio la sabbia. Tu falla e ti tira i capelli. Fai su, su. Giù, giù. Destra, sinistra. B, A. Si spacca la pala. Si spacca la pala. Adesso prova a liberarti adesso. Non puoi più usare la pala. No, neanche. Liberati. Liberati. Sgavo io che sono veloce. Ale, prova ad alzare solo una gamba, solo una. No, io mi devo liberare. Sono già veloce a scopare, quindi no, mi distorcio. No, no, no. Prova ad alzarti adesso che sto facendo pressione col piede. No, la gamba devi alzare, da seduto. Alza. Alza, aiuta. Mi spacca la gamba. Mi spaccano le gambe. No, devo liberarmi, ma solo a me non mi dovete aiutare. Ti è, ti è. Ti è, succo. Ti è. Lo saluta al video, saluta al video. Mi fa un culo al video. No.